partiamo quindi da questo volume museo d'arte urbana aumentata torino ecco questo è un progetto molto ampio tra l'altro non posso citarvi qua tutti gli enti che hanno partecipato a questo progetto li troverete all'interno tra l'altro anche nei commenti farò una descrizione un po più ampia se siete curiosi ma volevo più che altro parlare di cosa trovate all'interno immagini molto accattivanti di opere di street art che sono dislocate in varie zone di torino quindi non soltanto il museo d'arte urbana come lo intendiamo a torino quindi quello situato in borgo in borgo campidoglio ma anche tutte le altre opere che possiamo trovare nelle periferie questo libro ci conduce attraverso una magnifica mappa che mettono a disposizione in diverse zone e la cosa più interessante che io ho trovato in associazione a questa pubblicazione cartacea è l'app l'app che viene chiamata b part b parte un po come l'idea punto di di essere parte no allora andiamo a vedere come funziona cercate una delle 46 opere del progetto torino città aumentata puntate con la camera l'opera d'arte e vedete che cosa succede questa stessa operazione oltre che sul libro può essere effettuata direttamente davanti al murale stesso se cercate qualche meta per una passeggiata in solitaria in zona rossa forse questo volume mi può offrire qualche suggerimento su dove andare magari vicino a casa ecco soprattutto più consigliabile adesso concludo con l'invito che forgono gli stessi autori del volume a tutti voi ovvero quello di prendere questo biglietto per innamorarvi per la prima volta o per l'ennesima volta di torino quindi accogliamo questo invito e scopriamo nuovi angoli della città a presto